GSM numero 6 Picasso R, mezzo meccanico che prende velocità al comando in avanti c'è Prione Jet ma a largo Picasso R quindi pega Dizzo ancora il numero 5 di Pantic Slide GSM e quindi Picasso R che passa al comando su Prione Jet poi c'è Pantic Slide, Picasso che controlla la situazione in avanti su Prione Jet poi Pantic Slide GSM, ancora l'1 di Pegadizzo poi c'è il 2 di Prafic 3B ed è Pippo Goldbigi che muove dalle retrovie al passaggio davanti ai tribune in avanti è il 6 di Picasso R ora c'è Pantic Slide GSM che muove a largo e quindi Picasso R che ora deve vedersela con Pantic Slide che comunque naviga a largo di Prione Jet quindi Picasso R ancora Prione Jet a largo c'è Pantic Slide GSM quindi Picasso R che accelera di botto con Pantic Slide sempre a largo quindi Pippo Goldbigi in avanti Picasso R sempre Pantic Slide poi Pippo Goldbigi in posizione assai invitante prova a venire via quindi Picasso R ancora Pantic Slide a largo quindi Pantic Slide che intensifica l'azione a largo di PICASSO R poi c'è ancora Pippo Goldbigi ancora Prione Jet ma intanto PICASSO R che controlla in avanti Pantic Slide sempre dietro ancora Pippo Goldbigi PICASSO R che scappa già a traguardo lontano Pantic Slide deve vedersela con Pippo Goldbigi Cavalli che entrano in retto d'arrivo con PICASSO R che scappa via da Pantic Slide GSM lungo i birilli nel tratto conclusivo è il numero 2 di Praffic 3B che prende tutti in contropiede viene a vincere Praffic 3B vittoria per il 2 di Praffic 3B Gaspare Lo Verde in cabina in regia 2-6-5 l'arrivo ufficioso di questa corsa grazie a tutti grazie a tutti